Un cordiale saluto amici di WeSport, bentrovati con la trentesima ed ultima giornata del campionato di eccellenza siciliana nel gruppo A dal Nino Vaccara di Mazzara del Vallo. La mazzarese ospita la Nissa nell'ultimo turno vittoria dei padroni di casa per 3-1 contro l'Unidas Sciacca. Pareggio invece per la Nissa per 2-2 contro il Canigatì già promosso in Serie D. Vediamo le formazioni che scendono in campo padroni di casa con Demiere, Cicala, Mudu, Giardina, Priola, Corso, Secum, Fricano, tridente offensivo con Cristaldi, Seccan e Testa. Risponde la Nissa con il 4-3-3 di Mister Bognanni, Livorsi, Garofalo, Priolo, Caronia, Priola, Brace, Bisogno, Loporto, Rizzi, Reducci, Camara. Arbita la partita la signora Arianna Bazo della sezione di Bolzano, assistenti entrambi palermitani e sono valenti e bel vedere. Parte forte la Mazzarese che ci prova col tentativo dell'ex in pallonetto. Parliamo di Seccan che però manda fuori al quindicesimo. Guizzo personale dalla destra da parte di Cristaldi va al tentativo. Colmancino viene deviato da Seccan, grande intervento di Livorsi ma è tutto fermo per posizione di fuorigioco. Al ventiduesimo traversone dalla sinistra Livorsi in qualche modo riesce ad abbrancare la sfera. Si vede invece al ventinovesimo in zona offensiva anche la compagine Nissena. Una spazzata infatti si tramuta in azione offensiva. Demiere esce per evitare guai peggiori su Reducci. Poi l'azione si perde in un nulla di fatto. Trentaduesimo Seccan riesce a trovare spazio dalla sinistra. Prova il traversone dentro per testa destro che però viene controllato da Livorsi. Trentaquattresimo ancora Mazzarese. Un traversone dalla sinistra. Cristaldi in area di rigore riesce a girarsi. Ancora Cristaldi batte il portiere e il gol del vantaggio. 1-0 della Mazzarese che sblocca il risultato dopo tante occasioni. A 11 dalla fine del primo tempo è arrivato il gol firmato. Cristaldi alla quarantaquattresimo la Nissa prova a rientrare in partita. Calcio di punizione Garofalo tocca ma mette fuori. Primo tempo che va dunque in archivio così tra Mazzarese e Nissa. Fin qui è 1-0 decide il gol realizzato al trentaquattresimo da Cristaldi. Possiamo partire col film della ripresa. Subito Mazzoni in campo per la compagine Nissena. Ma il copione non cambia perché sin dal 51esimo la Mazzarese pressa per cercare il 2-0. Cross da parte di Briola. Seccan lotta in area di rigore. Poi libera la conclusione Cristaldi. Seccan poi Ogbebor va alla conclusione col mancino. Il portiere Livorsi gli dice di no. Ma era tutto fermo per posizione di fuori gioco. Punizione battuta veloce in casa Mazzarese. L'ex Dattilo Secum impegna Livorsi. Sessantottesimo è il momento dell'ex città di Messina Andrea Santoro. Settantatresimo la Nissa con Reducci che cerca spazio per la conclusione. Col destro la ciabatta sul fondo. Al settantaseiesimo c'è spazio per Danca sul terreno di gioco. Questa la scelta da parte del tecnico Angelo Bognanni. Al settantanovesimo calcio di punizione dalla destra affidato ancora una volta alla Mazzarese. Battua veloce che sorprende la difesa della Nissa. Ogbebor col sinistro al volo mette fuori i cambi. Gli ultimi per Mister Bognanni. All'ottantunesimo è il momento di Nuccio. Poco dopo spazio per Amorelli. E poi il triplice fischio va in archivio la regular season di Mazzarese e Nissa. Con la vittoria della formazione locale per 1-0 decide il gol realizzato da Cristaldi. Un grande in bocca al lupo allora alla Nissa che chiude così la stagione. Quella dell'addio del presidente Gian Musso. Amici di WeSport un cordiale saluto e alla prossima.